Salve, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sono Matteo Suavi, sono responsabile dell'area tecnica di Rubabusiness. Con me oggi c'è Mauro Valietti. Buongiorno. Buongiorno, Sysadmin, Rubabusiness in particolare segue la parte relativa ai sistemi operativi Linux. Oggi insieme a Mauro parliamo di PHP X-Ray, uno strumento che abbiamo messo a disposizione, abbiamo introdotto sui nostri sistemi di hosting e servizi managed su sistemi cloud e fisici. Il PHP X-Ray è uno strumento che viene fornito da Cloud Linux e è quindi disponibile solo per sistemi Linux based. È sviluppato per analizzare, per identificare i problemi di performance su siti sviluppati in PHP. In sostanza, come vedremo poi dopo live dalla demo che ci farà vedere, dalla demo dall'attività che ci farà vedere Mauro dal vivo, lo strumento serve per identificare problemi di caricamento delle pagine del nostro sito, per cui identifica plugin lenti piuttosto che query lenti o funzioni lente, quindi scende nel dettaglio molto specifico di quelle che sono le problematiche del nostro sito. Noi cercheremo di rispondere alle vostre domande in diretta live, nel caso in cui non facessimo in tempo, potete, o avete anche altri dubbi, una volta che è terminato il webinar, potete inviare le vostre domande a webinar.chiocciolastaf.rovo.it Vi ricordo in ogni caso che il webinar è registrato, quindi verrà pubblicato sui nostri canali social e anche all'interno del nostro pannello. Quindi nel caso in cui avete la necessità di rivedere qualche parte, insomma, non preoccupatevi. Bene, a questo punto io passerei la parola a Mauro, che vi fa vedere in pratica lo strumento, come funziona e come può essere sfruttato per andare a risolvere le problematiche di performance sui nostri siti. Questo è il classico pannello del nostro hosting, quindi potete già toccarlo con mano, nel senso che tutti i nostri hosting Linux hanno già il PHP X-Ray pronto, operativo, installato. Parliamo sia del pannello Plesk che del pannello C-Panel, quindi entrambi le soluzioni di hosting hanno già la parte X-Ray, che vedete nel Plesk qui a destra, nel C-Panel, comunque nel pannello è identico, diciamo, ha le stesse funzionalità, quindi lo vedremo in Plesk, ma si tratta dello stesso strumento. E anche nei server dedicati è possibile, su richiesta, andare ad aggiungere questo tool, questo strumento, che riteniamo davvero molto utile. Lo riteniamo molto utile perché, dall'esperienza, dalle richieste che ci vengono fatte tutti i giorni, diciamo, è uno strumento che rende facile il debug, l'analisi delle prestazioni di un sito web. Cioè, spesso durante le varie analisi del sito ci vengono poste le domande più frequenti sono come mai il sito è lento, perché usa tante risorse, come faccio a migliorarlo. Questo tool serve proprio a aiutarvi, in maniera mirata, a capire quali sono le parti che potete ottimizzare dal vostro sito. E lo farete in modo semplice e non complicato come richiederebbe, diciamo, utilizzare una struttura di debug, cioè vuol dire portarsi il sito in casa, fare dei test mirati su alcune funzioni e quant'altro. No, tutto questo è possibile adesso farlo sulle nostre piattaforma, sia hosting che server dedicati. Ma, diciamo, vediamolo perché è più facile vederlo che nella pratica, diciamo, che spiegare tutte le funzionalità che ha. Quindi, cosa ho fatto? Ho creato un sito di test nel nostro hosting, ho installato un WordPress con un WooCommerce, quindi, diciamo, un sito relativamente, diciamo, complesso, ma dal punto di vista di WordPress, che non è un WordPress banale, diciamo, ho aggiunto la parte di WooCommerce, ho aggiunto due prodotti e poi sono andato a crearvi alcuni script proprio per mettere in crisi le risorse del, diciamo, il caricamento, le risorse del sistema per farvi vedere come X-Ray ci evidenzia tutte queste problematiche o, diciamo, parti da migliorare del nostro sito web. Subito una premessa, ho disabilitato qualsiasi sistema di cache. Ecco, in questa fase di debug, quando voi siete alla ricerca dell'ottimizzazione del sito, quello che vi consigliamo sempre è disabilitate tutte le cache. Perché? Perché ovviamente, altrimenti avreste un risultato sfalsato. perché in questi momenti è utile capire quali sono i veri limiti del nostro codice senza, diciamo, quello che è l'aiuto di una cache. Quindi io qui ho disabilitato la cache Nginx, non ho messo nessun plugin di cache sul sito WordPress. Diciamo che sappiate, è meglio toglierli nel momento in cui fate questo test. Quindi, andando sulla destra, X-Ray, mi si aprirà questa nuova schermata, quest'altra schermata. Qui, io stamattina ho già lanciato un test, diciamo, solo per questioni di tempo, ma andiamo a realizzarlo in tempo reale. Qui in alto avete uno star tracing che farà partire il tracciamento in tempo reale. Allora, premendolo, se qualcuno di voi vuole farlo ha del nostro hosting, può farlo anche in tempo reale con me, fare il test su hosting e vedrete i risultati. Scegliendo, aprendo questa finestra, vi chiederà prima di scegliere il dominio, perché voi potete andare a farlo sul dominio principale, sui sottodomini, o sui vari domini che ne avrete. Dopodiché, dovrete andare a specificare, lui la chiama mask, quella che è un percorso, cioè, volendo voi, potete anche andare a ispezionare, a debaggare una pagina specifica, cioè, se io qua metto index.php, lui mi andrà a prendere quella pagina. A me in questo caso non interessa, questo mi interessa avere una visione generale di tutte le pagine del mio sito che vengono visualizzate. in questo caso, quindi, cosa faccio? Asterisco. Vuol dire che il tool phpxray ascolterà questo dominio webinar.abcloudhosting.it in qualsiasi pagina verrà richiamata, ascolterà qualsiasi pagina. Esistono, qui comunque avete un riferimento alla guida di come usare i caratteri, se volete fare dei filtri un po' più evoluti, ma comunque, diciamo che normalmente questo è quello che ci viene richiesto la maggior parte dei casi. Con l'advanced setting vado a specificare qualcosa di molto bello e importante, cioè posso andare a dire ascoltami solo questi client IP, questo quando è comodo. Voi immaginate di avere un sito con molte visite contemporanee, ma non ne servono moltissime, basta anche solo 5-10 visite contemporanee e volete andare a capire quali sono le pagine lente durante un vostro percorso ben preciso, perché il cliente si lamenta che facendo questa, questa, questa operazione il sito risulta lento. Bene, se voi qui lasciate l'asterisco il sistema prenderà tutte le pagine che visita chiunque in quel momento e ve le sottoporrà a test, analisi e a un vostro report. Se invece qui per esempio voi ci mettete il vostro IP quello della vostra connettività, a quel punto il tool andrà a tracciare solo le vostre richieste, quindi questo è fondamentale in una fase di debug dove voi volete andare a vincolare il tool alle vostre, alla vostra, il vostro percorso, al vostro test in particolare, come preferite. Io in questo caso lascio chiunque, non mi interessa andare a limitare per l'IP, tanto è una, è un test semplice che facciamo e dopo di che potete scegliere se lasciar girare questo test per un certo periodo, non può essere più di due giorni e meno di un minuto, ok, oppure a mio avviso più sensato impostare un numero di richieste, quindi quante richieste lui prenderà in esame per questo report, lasciamo 20 come test, quindi lui da quando io farò partire questo test ascolterà le prime 20 richieste a questo dominio che arriveranno e mi farà un report sull'andamento di queste richieste, quindi io non ci sono altre configurazioni come quindi come vedete la configurazione è molto semplice e lineare, run e lui comincia a crearmi questo, comincia a creare il test da fare, ci mette poco tempo, vedete è già pronto, mi dice iniziato questo periodo, 20 time left, quindi ancora nessuno non ha visitato, io adesso vado sulla pagina del sito, ok, apro la home page, poi vado per esempio nella pagina shop, va, aggiungo un prodotto al carrello, ho fatto dei prodotti test, torno in home, quindi ho cominciato un po' a girare le pagine, qui ho un refresh per refresh alla pagina, non è immediato, qui è già arrivato a leggerne qualcuna, probabilmente anche qualcuno di voi che ha provato perché non penso di aver aperto 12 pagine, comunque poco importa, a volte le richieste più lunghe è normale che lui magari ci metta qualche minuto, quindi non abbiate fretta, nel senso se anche qui avete lanciato un test, dategli un attimo perché lui vedrete poi tutto quello che è in grado di farvi vedere di queste richieste, quindi, esatto, qui le 20 richieste sono arrivate, quindi abbiamo visto il test che noi abbiamo aperto e andiamo a vedere nel dettaglio, qui ecco, questo qui potete lanciare quanti test volete, rimangono per 30 giorni, dopodiché vengono cancellati questi report, ma poco conto perché tanto vedrete adesso potete anche esportarveli e tenerveli da parte, quindi con l'occhietto andiamo a vedere quello che lui ha collezionato per noi, di default, come vedete qui, lui dice ok, 20 richieste, slow, una, e qui ne vedo una, perché, perché lui di default, lo vediamo qua da questo filtro, tende per sua stessa natura a mostrarmi solo quelle lente, noi in questo caso adesso diciamo, vabbè, mostramele tutte, come faccio, mostramele tutte, o cancello il filtro slow, oppure aggiungo anche quelle normali, e aggiungo anche che qui adesso non l'abbiamo visto in questa, in questa fase, ma, se rimane del tempo, poi lo vedremo, ma comunque è una, sommetto una cosa in più, oltre al tipo di richieste slow e normal, potrebbe apparirvi la voce trottled, quindi limitate, quello quando succede, quando voi una richiesta al sito supera le risorse che avete dato a un certo piano hosting, quindi per esempio supera la RAM, la CPU, che ha a disposizione di quel determinato dominio, qui avete anche le richieste, diciamo, limitate, le evidenzerete perché qui a fianco vi apparirà un triangolino che vi dice questa richiesta è stata limitata per esempio per la CPU, per la RAM, e quindi potete capire, andare a capire perché chi ha fatto sì che quella richiesta superasse la RAM, cosa che ci viene chiesta abbastanza frequentemente, quindi, qui vediamo le mie richieste, ogni pagina ne contiene 10, lui me le mette in ordine di durata, ok, e per esempio qui, cosa balza subito all'occhio, no, che io ho la richiesta 11 che mi prende la home page, ok, che ci ha messo, diciamo, mezzo seconda, mezzo, sì, 500 millisecondi, ok, mezzo secondo, la richiesta 1 ci ha messo 3 secondi e tutte e due, la 1 e la 11, sono la home page, ok, quindi già questo vi dà una lente di ingrandimento sul perché una volta la home page mi si apre in mezzo secondo e un'altra volta in 3 secondi, proviamo ad andarlo a vedere entrando nel dettaglio, se io entro, partiamo prima dalla 11 che è quella buona, io cliccando qui ho il dettaglio della richiesta 11, qui lui entra nel dettaglio di tutto quello che ha fatto la richiesta 11, quindi, qui mi dicono guarda, quello che ci ha messo più tempo è la parte WooCommerce, il plugin WooCommerce, ci ha messo 360 millisecondi, perfetto, poi scende più nel dettaglio, mi dice guarda, oltre questi 360 millisecondi che mi ha già evidenziato, questi poi di conseguenza ci hanno messo questo tempo, ovviamente sono in ordine a scalare e quindi già qua capite che è classico, vedete dei vostri plugin, magari quelli di traduzione, quelli che creano il layout del sito, queste cose e potete andare a capire quanto pesano i vostri plugin sul caricamento di una pagina, ok? Scendendo ancora più nel dettaglio, qui abbiamo le query che vengono fatte dal vostro applicativo e nel dettaglio proprio diciamo granulare, cioè trovate anche qual è la query, qual è la pagina, il file php che sta andando a richiamare e addirittura qui adesso si vede anche la linea, quindi la riga a cui viene chiamata quella funzione, quando è utile, in questo caso non molto perché queste sono tutte query comunque buone, vedete che sono verdi, quindi non sono query particolarmente lunghe, parliamo di query di millisecondi, e quindi magari uno ce le può vedere, può capire cos'è, ma non sono da dare particolarmente importanza in questo caso. Adesso vi faccio vedere poi nell'esempio che ho creato su misura invece quando è molto più utile questo strumento per poi comunque andare avanti e vedere anche le chiamate di sistema. Vi farò vedere, queste sono invece le chiamate che il sistema operativo, quindi le funzioni pure che il vostro codice dice di andare a fare al sistema operativo. Anche in questo caso non abbiamo niente di evidente perché questo è un sito abbastanza leggero, nuovo, senza grandi pretesi diciamo. Dicevo, perché questa pagina home page ci ha messo 600 millisecondi mentre la prima volta no? Andiamo a vederlo. Cosa cambia? Se io entro nella prima adesso lui andrà a farmi vedere cosa è successo. Ok, vedete qui cosa balza all'occhio che ci ha messo più di un secondo a rispondere alla mia richiesta? Il WP Cron il WP Cron di WordPress io qui appositamente l'ho lasciato per essere eseguito ogni tot minuti ogni volta che un cliente apre una pagina un utente apre una pagina ogni tot minuti quindi questo WP Cron è andato a pesare sulla mia sessione perché sono stato il primo ad aprire questa pagina la home page magari nell'arco degli ultimi 5 minuti 10 minuti come l'ho scelta quindi alla domanda perché una volta la pagina mi ha messo 3 secondi e una volta no? Perché ho lasciato attiva l'impostazione che il WP Cron va a pesare su un utente ogni tot minuti questa funzione è disabilitabile da Plesk potete dire al Plesk sgrava Wordpress dal fare questa cosa fallo tu Plesk e quindi sarà il Plesk che se ne occupa di tenere aggiornato il WP Cron ogni tot minuti potete andarlo a fare con le operazioni schedulate e quindi per esempio questo primo problema che un utente ogni tot ha una pagina un tempo di risposta di 3 secondi ripeto senza cache senza nessun meccanismo magari quando voi andate ad abilitare la cache poi questa cosa si riduce drasticamente però ecco sappiate che tutta questa informazione era davvero difficilissima andarla a trovare prima di avere questo tool ripeto ci voleva un debug su misura per andare ad avere questa informazione però entriamo un po' più nel dettaglio oltre al test che abbiamo lanciato adesso che appunto non ha evidenzato grosse anomalie cioè lentezze se non questa del WP Cron che vi ho detto io ho creato due o tre pagine per stressare un po' il sistema e le ho già testate allora le ho fatte qui e ve le mostro allora io ho creato e vi spiego cosa sono così almeno le analizziamo insieme sono parlanti però comunque qui io ho lanciato questi tre pagine allora uno che si chiama stressDB potete immaginare cos'è che vedete che lui metto ci ha messo 16 secondi a essere eseguita ok nel momento in cui io mi trovo una pagina di 16 secondi vedete lui me la evidenzia e voglio capire cosa è successo in questo caso dal nome possiamo capire possiamo capire di cosa stiamo parlando quindi clicco nella pagina stressDBPHP e vado mi vado a evidenziare subito qual è il problema cioè qui mi dice guarda il primo tuo problema è questo viene fatta non lo troverete mai nel vostro codice l'ho fatto per farvi capire una select slip quindi una select molto lunga una select slip vuol dire che lui questa select ci ha messo 10 secondi per farla ok ha aspettato 10 secondi perché l'ho scritto così quindi lui mi dice attento il tuo problema è sul database vedi database query il tuo problema di 10 secondi ce l'hai sul database query e quindi già io mi metto da parte tutte le altre analisi che potrei fare su codice so che il mio problema è il database dopodiché mi dice guarda queste sono le tue query in ordine di durata ok la espando e guardate lui mi dice questo query ripeto fasulla slip 10 ma era poteva essere benissimo uno di quelle ne vediamo quotidianamente tantissime così questa query slip 10 che è in questa pagina stressdb.php alla riga 55 ti ha fatto perdere 10 secondi qui voi avete un controllo maniacale del vostro codice quindi riuscite ad andare a capire esattamente per esempio per poi riportarlo a produttore di plug-in a voi stessi se siete il vostro avete scritto voi il codice o a chiunque qual è la pagina qual è il punto qual è la query che vi dà problemi per esempio un'altra cosa che io capisco da questa da questa tool questa pagina che io ho fatto stressdb cosa fa inserisce mi sembra mille o diecimila record nel database poi li cancella e qui io posso vedete capire subito che le operazioni più lunghe sono quelle di cancellazione non quelle di inserimento perché infatti le operazioni subito dopo quella di slip fasulla sono quelle di cancellazione quindi delete ovviamente non è possibile però è meglio ridurla il più possibile rispetto alle altre perché comunque ci mette un tempo parliamo di 13 millisecondi però comunque maggiore rispetto alle altre vi ricordo vi ricordo che questo modulo PHP X-Ray è disponibile su tutto il nostro hosting è possibile installarlo anche su server dedicati in cloud o server fisici però è necessario avere cloud di Nuxeret Pro installato per che è abilitante a questa funzione quindi va configurato sui dedicati poi dopo Mauro se quando torni alla pagina principale fai vedere perché la curiosità di diversi che sono che sono online come si fa a far fare a Plesk il lavoro del WP Cron sì arriviamo lì anche adesso finisco queste pagine e poi torniamo nel WP Cron altra pagina interessantissima anzi lascio questa qua che mi piace più dopo partiamo lo stress file stress file ho fatto uno script dove in una cartella creo mille file e poi li cancello immediatamente perché l'ho ritenuto un esempio calzante utile perché questo qui vedete lui mi dice guardate questa page questo stress file PHP ci ha messo otto secondi che capite per un sito internet è un po' un problema no? però quando entro a vedere non ho niente di arancio ho tutte le funzioni in verde perché si tratta di tante funzioni che ci hanno messo poco tempo quindi in questo caso effettivamente ho chiesto una miriade di operazioni tutte molto piccole perché quella più lunga ci ha messo 6 millisecondi però qui magari chi mastica un po' più a basso livello le richieste di sistema vedo proprio che si parla di funzioni che PHP usa per creare aprire e cancellare file lo vedo anche lui dice quel file dalla riga 5 questo file stesso dalla riga 12 qui quando è che vi può essere utile ci capita spesso cliente che dice guarda il sito va molto lento perché faccio partire il tool e vedo che magari ha impostato la cartella di sessione dei PHP in una cartella diversa dalla TMP che viene pulita regolarmente e si trova con migliaia di file centinaia di migliaia di file in questa cartella quindi qui quando il sistema va a fare una Fopen in una cartella magari con centinaia di migliaia di file qui si vede subito che lui ci mette magari due o tre secondi per aprire e leggersi quella cartella rispetto ai millisecondi che ci mette adesso quindi ogni utente sarà rallentato in questi due o tre secondi perché avete quella cartella che ha troppi file dentro provate a capirlo senza i crei vi assicuro che non è banale neanche per noi anche se ci mettiamo mano sul server quindi questo è un altro esempio abbiamo le chiamate di sistema che dicevamo prima l'ultima e questa è un altro cult che ci viene spessissimo che ci viene sottoposta frequente ho il sito lento come mai vado a vedere c'ho questa pagina che mi ci impiega dieci secondi più di dieci secondi di essere eseguita perché entro e mi balza all'occhio questo lui subito me lo dice guardate external request qui io ho fatto appositamente una pagina che al suo interno questa stress php va a richiamare una pagina php esterna che non fa altro che sta lì a aspettare dieci secondi il risultato è che questa pagina richiede un contenuto esterno quel contenuto esterno è lento a essere fornito e di conseguenza la mia pagina è lenta a essere fornita al cliente finale ma il problema non è mio del mio codice il problema è della risorsa esterna che sto andando a chiamare classico esempio è metto il banner dove faccio vedere il trust pilot il commento facebook non lo so qualsiasi roba qualsiasi diciamo link esterno che voi potete prendere se in quel momento quel portale è sovraccarico è lento oppure state chiedendo troppe informazioni magari invece che far vedere cento ultime opinioni tra spy ne fate vedere solo dieci migliorereste questo cosa però ecco non ne avevate evidenza se non in una maniera un po' più complessa qui subito all'occhio vedete external request qui il problema di questa pagina dieci secondi cioè la pagina se io guardo tutto il resto non c'è messo non fa nient'altro fa un echo quindi ok in questo caso però qui vedete che salta all'occhio anche qui e mi dice dove la sto chiamando da questa pagina con un curl a questa riga sto richiamando questa funzione quindi ecco diciamo che in cinque minuti faccio lavoro davvero di svariate ore quindi se avete modo di provare se avete già dei domini provate lanciate magari ci dopo ci potete scrivere con calma analizziamo anche il caso se avete dubbi ma è molto parlante è molto è molto semplice diciamo come 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 visualizzazione come intuito quello che potete fare qui è download sbdf quindi scaricate il report vedete io l'ho fatto il report è molto bello tutto quello che vedete prima viene dettagliato in questo caso io l'ho fatto dalla funzione che mi interessava potete farlo anche esternamente da tutte le funzioni quindi avrete tutto e quindi vediamo un attimo allora vedo la domanda quindi la prima che mi chiedono è dove si entra quindi dal domini in plesca dal vostro dominio lo avete sulla destra qui potrebbe essere compatta la dovete espandere con questo tastino secondo la modalità di visualizzazione e qui avete x-ray ok qui con i vari tool quindi cliccando x-ray vi ritrovate nella nella schermata che vi ho fatto vedere prima e sempre tornando un'altra domanda che vedo come si dice a plesca di occuparsi di eseguire il cron dalla vediamo allora qui una volta che vi avete installato un wordpress il wordpress toolkit lo riconosce se non dovesse riconoscere voi entrate in wordpress fate analizza e lui esatto fate analizza e lui riconosce la vostra installazione di wordpress una volta che l'ha riconosciuta il wordpress toolkit vi permette di fare tante operazioni tra cui vedete qua c'è sostituire il vpcron php ok leggando questo ok semplicemente così vedete lui qua mi ha detto il vpcron attivo è stato disabilitato e io a sto punto si occuperà il plesca di fare quell'operazione che prima invece pesava sui singoli utenti del diciamo del dominio vediamo se riesco a farvelo vedere anche nel dettaglio esatto vedete lui non ha fatto nient'altro che creare questa attività pianificata che si occupa lei di richiamare il vpcron per voi lui l'ha impostato ogni mezz'ora ok per andare a richiamarlo al posto del vostro utente quindi non peserà più sull'utente ma sul sul plesca quindi anche se il plesca ci mette due o tre secondi la pagina diciamo la nostra operazione pianificata non dà fastidio a nessuno rispetto alla visita di un utente se non ricordo male Mauro adesso non è disponibile sulla parte del nostro cloud hosting però nel caso di server dedicato è possibile utilizzare php gray per farsi mandare anche dei report schedulati cioè lo strumento può diventare anche proattivo ed avvisarti nel caso in cui ci siano delle pagine che diventano lente corretto esatto allora nel caso di server dedicato ci sono due livelli uno c'è l'avviso in caso di pagine lente cioè il cloud linux quindi ancora sopra il il php xray cloud linux cosa fa dice noi possiamo impostare quando una vostra pagina è più lenta di x secondi magari voi cittano non so cinque secondi tre secondi due secondi come uno vuole mi informi una volta al giorno mi mandi una mail e mi dici guarda quella tua pagina è lenta ci impiega due secondi ci ha impiegato due tre quattro secondi ad aprirsi quando qualcuno l'ha richiamata è successo x volte ed è successo in questi orari ok quindi vi arriverà una mail con un report che ho scritto questa pagina queste pagine sono lente a quel report che vi arriva se avete aggiunto il php xray potete dire bene ma perché e quindi automaticamente chiedendocelo noi vi abiliteremo e vi diremo vi faremo vedere la l'aggiunta della parte di php xray che vi dirà ok quella pagina è stata lenta per questo motivo per questo motivo per questo motivo come vi ho mostrato prima quindi avrete diciamo un aiuto anche passivo senza i vostri test diciamo che questo tool in realtà è fatto perché voi possiate smanettarci in diretta perché è sempre meglio vederlo in diretta però in alcuni casi effettivamente può essere utile anche anche vederlo su su diciamo operazioni che non sono che non sono sotto il vostro controllo diretto magari cron che fate girare la notte piuttosto che altro potete farlo in questo modo invece l'avrete anche su questo ok se Matteo vuoi possiamo provare ad abbassare le risorse esatto per provare a vedere cosa succede volevo farvi vedere un po' com'era il throttle cioè quando vi limita la diciamo è limitato dalle risorse quindi in questo caso arrivo abbiamo messo quello che prima abbiamo aggiunto un po' di risorse per quello che è consigliato per un e-commerce ovviamente non andare in in saturazione adesso vediamo un attimo vediamo un attimo invece di vedere sto andando andando in risorse eseguendo allora intanto vedo che qualcuno mi si io ho già fatto ok va bene il report vedo che qualcuno chiede entrando con l'occhietto qualcuno mi chiede come si scarica il report entrando in una in una diciamo richiesta ok posso andare a scaricarlo come pdf quindi da qua sopra ho download pdf ok quindi faccio lo pdf e lui mi andrà a scaricare il mio report che è l'esatto il riporto esatto di tutte le query che sono state fatte in questa richiesta vedete tutte le query quindi è utile anche per fornirlo liberamente ai vostri programmatori agli sviluppatori del plugin a chi volete insomma questo gli dà delle informazioni che raramente hanno a disposizione quindi riescono ad andare nel dettaglio di cosa ha creato il rallentamento del problema ok quindi adesso vediamo se riusciamo a creare il il superamento dei limiti di risorse quindi allora torniamo nel nostro pannello x-ray quindi x-ray facciamo il giro abilichiamo il nostro nuovo tracing ok scelgo il mio dominio dico qualsiasi pagina facciamo advanced setting e gli faccio 50 richieste così ne abbiamo un po' di più run ok lui parte e sta cominciando ad ascoltarmi il mio sito ok io adesso lancio magari il mio stress db.php quindi mi va a scrivere a cancellare mi dirà fatte n scritture n cose ci metterà 10 secondi ok vediamo e nel frattempo le risorse ok ci sono ok lui ha fatto mille inserimenti mille cose rilasciamolo ancora così intanto lo faccia lavorare vediamo un po' e andiamo a vedere se ha cominciato a registrarci ok sta cominciando a registrare tutte le nostre le nostre operazioni entriamo dentro a vedere un dettaglio vediamo se l'ha già preso ok ecco vedete qui lui mi dice attenzione sono arrivate due richieste pending due vuol dire le sto ancora analizzando quindi sono richieste pesanti come appunto quello che gli ho fatto io vediamo se quelle poi andranno a superare le risorse o meno magari per superare le risorse potrei anche fare una cosa di questo tipo adesso se non lo supera con queste ve lo faccio vedere in un altro modo entrando nel pannello di amministrazione andiamo a caricarlo un po' di wordpress proprio esatto qui non ha superato le risorse allora andiamo a vedere intanto che lui finisce di scaricarlo siti web domini entriamo nel nel wordpress tool kit entriamo proprio nel nel pannello di amministrazione di wordpress ok e giriamo un po' nella nella nostra amministrazione anche questo ripeto va ovviamente a inficciare su su tutto quello che sono le le risorse del mio piano hosting ovviamente ecco può essere utile anche in questi casi se dovete capire come mai il vostro back end è particolarmente lento ovviamente qui dopo è molto più difficile perché parlate se parlate di wordpress ovviamente andare a interagire col codice eccetera però se siete abbastanza diciamo schillati per andare a fare queste queste analisi riuscite ad andare in profondità quindi web domini allora vediamo se adesso ce l'ho fatta superare le risorse se no dovremo abbassare ancora un po' le risorse ma penso di no non da qui ma da phpxray mi sa che non ce l'ho fatta a vedere già da qua scusami teo quant'è che mai hai messo come risorse se no dovremo ancora abbassare mi sa vabbè comunque nel caso non riusciamo a farvelo vedere qua come vi dicevo io ho messo 2,56 vediamo 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 se ci è bastato oppure no teoria ok eccole eccole sette richieste sono state limitate ok ecco lo che vi dice vedete ora nelle richieste oltre che le normali le slow ho le limitate le limitate si evidenziano da questo triangolino di allarme qui se ci vado mi dice vedete qui the cpu and io quindi qui ho superato le risorse di cpu e io in tutte praticamente e sono tutte vedete qua nel vp admin qui nel rest tutte nel vp admin praticamente quasi questo ovviamente perché il pannello di back end va a chiedere più risorse rispetto al front end il mio stress db che ho lanciato non è bastato per far superare le risorse qui nel caso di hosting ovviamente aumentando la ram a scaglioni avrete più cpu a disposizione quindi per quello che prima non succedeva questo perché oltre un certo limite avete più cpu più cpu a disposizione nel caso di dedicati in cui prendete cloud linux è completamente personalizzabile quindi potrete andare a definire dei piani che ci dite voi quindi potete andare a definire le faccio vedere le risorse visto che qualcuno mi chiede cosa sono le risorse quando voi entrate nel vostro pannello e fate il resource usage il resource usage è già una funzionalità di cloud linux ok qui lui adesso mi dirà che sono state superate vedete cpu e physical memory quindi qui ho il dettaglio ovviamente diciamo esploso vediamo della di quello che è successo ecco qui adesso lo vediamo in piccolo magari se riduco il tempo lo riusciamo un po' a capire qui abbiamo diminuito ecco abbiamo diminuito la ram dai 4 giga ai 512 quindi è diminuito anche la percentuale di processore che ho a disposizione proprio per creare quel fault e quindi abbiamo potete andare a definire nel dedicato varlo nel server dedicato vuoi esattamente che cpu che quanta memoria dare a ogni singolo dominio piuttosto che a gruppi la io sono le operazioni di scrittura e lettura comprensive anche del database quindi la velocità di scrittura e di lettura su database la io operation sono il numero di queste operazioni le entry process sono il numero di processi contemporanei attivati i process sono la somma dei processi attivi e il fault vi evidenzia diciamo i superamenti di tutte queste di quando sono venuti i superamenti di tutte queste risorse ma nel caso in cui volete andare nel dettaglio qui ci sono poi le tabelle che sono diciamo più utili quando volete entrare nel dettaglio andate qui a dire fammelo vedere non ogni ora la tabella ma ogni minuto e lui vi farà vedere in ogni minuto quali sono le risorse che voi avete impegnato adesso vediamo perché effettivamente gli ho chiesto diciamo ok vedete mi ha aperto la tabella portandomela ogni minuto e qui io vado a vedere che il fault per esempio che io ho beccato la asta per average limit e fault ok qui alle 17.37 sono riuscito a fare un fault di CPU speed sta per CPU contemporaneamente sono andato fuori di RAM vedete 509 volte perché un processo comincia a fare richieste e lui me lo limita e quindi ecco il mio problema anche questo è utile nella fase di debug che serve sempre questo tool il mio problema in questo caso da cercare nei log da vedere nel debug di wordpress insomma tutte queste cose è a quest'ora 17.37 o diciamo minuto più minuto e meno ovviamente perché potrebbe essere qualche secondo di differenza ok vediamo se ci sono altre domande beh allora una volta che sto leggendo la domanda una volta che il sito è lento WooCommerce ma il codice diciamo è corretto e non posso togliere il plugin cosa posso fare posso aumentare la CPU la RAM cambiare hosting certo ovviamente ogni caso è a sé qui poi entriamo in un mondo sicuramente nel caso dell'hosting aumentare la RAM va ad aumentare anche le CPU e quindi le performance però fino a un certo punto perché ovviamente oltre a questo ecco attenzione cosa che non dice nella domanda sistemi di cache la cache è fondamentale sui server dedicati abbiamo sistemi di cache avanzati come può essere Varnish come può essere Meme Cache come può essere Nginx ottimizzato sull'hosting avete Nginx quindi per chi lo sapesse sempre nelle siti web domini tutti i contenuti statici possono essere forniti da Nginx aiuta in caso di sito qui da Apache Nginx potete entrare banalmente e qui con questo flag abilitare la memorizzazione della cache Nginx tipicamente qui vi consiglio di lasciare la dimensione della cache 64 128 mega poi a seconda di quante pagine di quanti di quanti siti avete il time out della cache più alto lo mettete meglio è così diciamo che 5 secondi ha senso se avete N utenti in 5 secondi perché vuol dire che dopo 5 secondi scade la cache quindi per siti poco visitati si potrebbe mettere anche 5 ore ok dovete solo far presente al cliente che magari per 5 ore se aggiorna un contenuto è meglio venire a disabilitare a pulire la cache di riabilità la vedete qui avete il tasto su VotaCache per essere certi che il contenuto venga preso e l'ultimo consiglio che vi do è disabilitare la cache per ubicazioni quindi nel caso di Wordpress per esempio disabilitare VpAdmin in modo che lui sa già di default che tutti i contenuti dove l'URL contiene VpAdmin o come avete chiamato voi il vostro pannello l'URL dove accedete al pannello di back-end non venga mai casciato questo è quello che potete fare subito sull'hosting per aiutare un po' le performance è questo siti PHP 8.2 sì ho visto scusate poi vi lascio provate a Matteo PHP X-Ray è in continuo sviluppo ok ancora non supporta PHP 8.2 se volete fare un debug purtroppo ad oggi domani potrebbe già essere diverso quindi tenetelo comunque monitorato ad oggi potete farlo fino alla 8.1 quindi se il trucchetto tra virgolette il workaround è tornate un attimo alla 8.1 che non dovrebbe darvi grossi problemi di compatibilità con la 8.2 fate lì il vostro test di debug e poi tornate alla 8.2 una volta che avete finito i vostri test perché è una funzione lenta è vero c'è qualcosa che sicuramente sarà ottimizzato in 8.2 rispetto a 8.1 ma non parliamo di macro macro problemi diciamo dimmi pure Matteo ma ricordiamo solo che PHP X-Ray è disponibile sui nostri piani hosting sia Pless che C-Panel quindi trovate esattamente la stessa interfaccia semplicemente non è disposto come qua in alto a destra ma lo trovate all'interno del pannello di C-Panel però la funzione è uguale si chiama X-Ray esattamente lo stesso modo ok allora la funzione Nginx sto leggendo bisogna specificare tutti i cookie da non considerare ovvio nel senso Nginx come cache però magari lo affronteremo meglio in un in un paragrafo dedicato Nginx è la diciamo il livello basilare della cache per come viene fatto sull'hosting dove contenuti statici senza cookie vengono cacheati quindi nel momento in cui viene aggiunto un cookie perché qualcuno si logga perché decidete di farlo sempre perché qualcun altro o andate a specificare qui quale cookie invece andare a fare se io qui metto o aggiungo un cookie mio che chiamo SES e-commerce ok se io qua glielo ho detto SES e-commerce le sessioni dell'e-commerce e cache lo stesso Nginx vi farà cache per queste richieste ma attenzione non è indicato cacheare contenuti con cookie se non si sa davvero quello che si sta facendo in questo caso utilizziamo meccanismi diversi utilizziamo metodi di cache differenti utilizziamo web server differenti perché un altro webinar magari che faremo in futuro è quello su light speed e quindi andiamo più nel profondo di queste cose e quindi diciamo esistono meccanismi diversi in questo caso qui diciamo X-Ray vi aiuta a un passo prima della cache a capire quali sono i colli di bottiglia del vostro codice ok ok vediamo anche dei server condivisi dedicati si potrebbe un buon suggerimento di avere delle API in futuro per avere il report condivisi ok webinar dedicato ne prendiamo atto di tutto quello che vi può interessare o meno comunque ricordatevi di scrivere la mail anche appunto dandoci le vostre indicazioni di quello che sono le problematiche più comuni le vostre richieste più frequenti e saremo anche perché anche a noi fa gioco spiegarvi tutto quello che ogni giorno viene implementato e viene aggiornato che non è poco insomma non so se mi sono perso qualche domanda a te o nel tempo più o meno c'è qualche cosa però eventualmente più nel dettaglio poi vedremo di rispondere tanto tanto abbiamo poi comunque salvate le domande io mi sembra che sia andata abbastanza bene Mauro è assolutamente interessante come vi hai detto tu è uno strumento che facilita di molto la vita di chi ha bisogno di ottimizzare e si scoprono cose che effettivamente in alcuni casi neanche era possibile rilevare con due semplici clic è veramente facile andare a trovare qual è la problematica del sito io ringrazio tutti per la vostra partecipazione spero sia stata gradita anche a voi e ci rivediamo al prossimo webinar grazie a tutti di nuovo e buona serata buona serata ciao grazie a tutti grazie a tutti